Il grosso dei 100 milioni per realizzare il nuovo traghetto della regione siciliana rischia di finire al polo di produzione napoletano di Fincantieri, piuttosto che a quello di Palermo. Una vera beffa per l'indotto locale, considerato che il commettente è la regione siciliana. Nei mesi scorsi il deputato regionale Adriano Varric aveva formalmente richiesto che la commessa per la realizzazione del nuovo traghetto di collegamento con Lampedusa e Pantelleria venisse affidato al polo cantieristico del capoluogo siciliano. Lo scorso marzo aveva ricevuto conferma da parte dell'assessore Aricò che dava per scontata la realizzazione del traghetto a Palermo. Eppure a distanza di qualche mese il governo regionale ha messo per iscritto che la realizzazione dello scafo verrà effettuata a Castellammare di Stabbia e che soltanto il completamento dell'opera verrà realizzato a Palermo. Il governo regionale dica cosa intende fare per portare il lavoro nel nostro territorio, chiede Varrica. Il cantiere navale, prima di essere il luogo in cui si fanno i vari e i tagli di nastro, è un polo produttivo che va difeso giorno dopo giorno. A maggior ragione, dal momento che la regione siciliana ha stanziato ben 100 milioni di euro, sono certo che sia doveroso parlare con fincantieri e ragionare su dove realizzare i lavori. Per questo motivo, conclude Varrica, ho depositato una nuova interrogazione indirizzata al governo regionale. Al contempo, predisposta e depositata anche in Senato dalla senatrice Dolores Bevilacqua, per chiedere ancora una volta che l'intera realizzazione del traghetto si svolga presso il cantiere navale di Palermo.